Vi auguro una serena notte. Il messaggio di questa sera è 5 di terra. Paure legate ai soldi. Sii saggio e accetta l'aiuto degli altri. Lavoro autonomo incerto. Sei troppo focalizzato su quello che non vuoi. Una mentalità orientata alla mancanza crea mancanza. Nella realtà attraverso la legge dell'attrazione. L'aiuto è vicino, ma il tuo pessimismo ti impedisce di riconoscerlo. È il momento di rivalutare i tuoi pensieri, le parole che usi e le tue convinzioni sui soldi. Smettila di lamentarti e accetta l'aiuto che ti viene offerto. Per fortuna le cose stanno migliorando e i sentimenti di sconforto che provi sono solo temporanei. Allo stesso tempo è importante che ti prendi cura della tua salute fisica ed emotiva. Altri significati di questa carta sono Lavoro autonomo incerto. Flessione economica. Infruttuose controversie legali. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte. Grazie. Ciao Ciao Grazie a tutti